Ciao a tutti ragazzi sono Fratellini e oggi faremo il quarto episodio di Star Fox 64 Ora andiamo al settore X Procedi Eccolo qua la X Le indicazioni dicono qua c'è l'arma segreta di Andros E allora io e Fox controlleremo Ah è vero dove dalle mani già Settore X Combat Zone Vediamo questa arma segreta ragazzi State attenti No c'è una bomba però tanto c'è la gormas Sono veloci attenzione Ehi attenti I gruppi nemici dietro Mamma mia sono velocissimi Siamo chiusi dentro la base Peggio di cosa non potevamo andare Guarda Peppy No Oh ma mi ha un'ansia guardate C'è qualcosa che non mi convince qua E' tutto distrutto Hai ragione Falco Dobbiamo indagare Oh bene 85 nemici Qua è il 150 e prendiamo il distinto Grazie Fox E anche oggi Peppy Non so in questo livello Prendiamo il due volte E' sempre a rischio di morire E io ho paura di perderlo Perché non so se lo sapete ragazzi Ma se perdete un vostro compagno Dopo non potrete più prendere il distintivo E non voglio fare questo Ahia oh ma vergognati Io attacco dall'outside Sistemi dead ahead Quindi vicino Più avanti Dai che il limite è di 150 Dov'è l'arma segreta Bene 150 non il distintivo Se perdiamo Peppy è finita E io sapete che ho messo la sfida Bene Peppy è salvo Meno male Ho avuto tanta paura Vado più avanti Guardami Fox Allora ho detto prima Peppy 170 questi Ne facciamo 200 Bellissimo No Non voglio perdere le ali Se perdete ragazzi Le ali Ritornate con il raggio Napoli Come io Si può distruggere questo No Adesso guardate ragazzi Una cosa segreta Che non so se Che sangue Però io lo so Guarda Fox guardati dietro Secondo me What the heck Significa Ma che cavolo Ma che Ma che cavolo Ho terminato Tutti i nemici Distruggi 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 Tu sei un nemico Aia Mi hai fatto male Ti distruggo Tu sei un nemico Yuppie Ce l'hai fatta You did it Ah Cosa Ma Mi Distruggi 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 Cosa E inter Far ridi Sono completo Nyeh Nyeh Sei stato Vattuto Scarsone Bene Ci è tornata Cinque E abbiamo Anche L'altro Distruggi Volevo proprio Uscire da qui Ho preso Cinque hit Ma sono a posto Sono ok Ancora Ma far quello Che è apposta Che non mi vuoi tradurre Quella che non so Ma se vuole Ti è stato Fatelo dire Adesso parlo In aldese Bene Abbiamo un'altra vita Quindi adesso Andiamo A Mashback Looks like We're heading From Mashback Distruggi Video Bene ragazzi Se vi è piaciuto Il video Lasciate un mi piace E iscrivetevi Ciao